Scusate il mio scorso italiano, cari amici, signore e signori, prima di tutto vorrei esprimere un caloroso ringraziamento per il grande onore che mi è stato concesso di essere qui davanti a voi. Il Fondo Ambiente Italiano e tutti voi impegnate a preservare ciò che rende la nostra vita umana particolarmente ricca da vivere e la bellezza. Non solo la bellezza della bella galliana di Viterbo, la bellezza quella che abbraccia l'architettura, l'arte e la natura. Per questo impegno ringrazio di cuore ognuno di voi. Desidero porgarvi un caloroso saluto da parte di mia madre Monica Metzler e dei miei due colleghi del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Frizz e Monica Metzler, il nostro Presidente Dottor Lucas van Randenborg e Felix Drost, che purtroppo non possono essere qui con noi oggi. Forse vi chiederete che cosa ha affascinato così tanto il mio patrigno Fritz Metzler, un avvocato tedesco di Dusseldorf, e mia madre Monica Metzler, da spingherli prima a costruire una casa e un giardino a Grotte di Castro e poi addirittura a creare lì e a grado lì un'azienda agricola biologica, Villa Caviciana. Perché? Credo che siano state tre cose. Primo, il grande amore per l'Italia. I miei genitori hanno sempre avuto una profonda nostalgia e passione per l'Italia, anch'io. Secondo, la speciale magia era vista la magia dell'antico paesaggio culturale intorno al lago di Bolzena, che risale agli etruschi. E terzio, la speranza di creare qualcosa particolarmente di architettonico e poi anche di agricolo in questo paesaggio culturale. Dopo la morte del mio patrigno Fritz Metzler nel giugno 2018, la fondazione Fritz Mocka Metzler si è trovata di fronte alla questione di come preservare l'opera dei miei genitori e di come portare avanti Villa Caviciana, secondo il loro desiderio, avrò offrendo il massimo beneficio possibile per la collettività. Quando abbiamo saputo dell'esistenza e degli obiettivi del FAI, bisogna dire che in Germania purtroppo non esiste un modello equivalente, e quando abbiamo incontrato te, caro Marco, e te, caro Davide, abbiamo capito che la soluzione è c'è là. Noi della fondazione Fritz Mocka Metzler vogliamo perciò esprimere un profondo e sincero grazie a voi Marco, Davide, Osvaldo, Daniela, Maurizio, Anna, Marco e tutti i responsabili del FAI e tutti il personale e responsabile a questa fondazione FAI e il personale a Villa Caviciana che sono anche qui, sono molto contento. Voglio dire grazie per il vostro grande impegno per la conservazione e il futuro di Villa Caviciana. «Non vediamo l'ora di realizzare altri progetti insieme». Concludo con due frasi che consentono di capire la vera indole del mio patrino e di mia madre. Fritz Mocka Metzler avrebbe compiuto 90 anni domani. Se fosse qui oggi avrebbe sicuramente lacrime di commozioni negli occhi e direbbe «facciamo il miglior vino del Lazio». E ma mia madre, Mocka Metzler non parla italiano, però lo capisce un po' e nonostante non la parlasse seppeva, sempre farsi capire con gli occhi e con le mani. Quando finiva una lunga, colorosa e interessante serata cordiale qui in Italia, diceva sempre ai suoi ospiti in Italia «grazie per la compagnia». Grazie. Grazie. Grazie.